Adesso se una signora prende a colpi di mattarello in testa lei che esce non è che possa ritirare i mattarelli dal mercato italiano. Posso solo stangare dei deficienti e dei delinquenti che usano strumenti di difesa per altri motivi. Non sono da rivedere le norme che regolano la diffusione. Guardi, se io esco compro delle forbici per sistemarmi la camicia. Se uno le forbici le usa in maniera errata non posso bloccare il mercato delle forbici. Lo spray al peperoncino ha salvato tante donne da violenze, stupre, rapini e aggressioni. Va usato in maniera intelligente. Chi ne abusa per quello che mi riguarda non va richiamato ma va arrestato anche se è minorenne.